Solo un punto per l'Arezzo femminile contro la Vigor Rignano nell'incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato regionale di Serie C, la prima di ritorno. All'andata il match era finito 4-3 per Lea Maranto. Mister Acquisti opta per il consueto 3-5-2 con Mazzini confermata davanti a far coppia con Torrioli, mentre Paganini, autrice di una doppietta nella scorsa gara, arretrata all'interno di centrocampo. Risponde la Vigor Rignano con un 4-2-3-1 con Manetti, unica punta. Primo tempo molto combattuto tra le due squadre, ma è l'Arezzo ad avere più occasioni. Prima con Paganini al settimo, cross dalla destra di Serluca, velo di Torrioli e tiro da fuori aria della numero 7 a Maranto, ma la palla termina fuori di poco. Pochi minuti dopo, ottima triangolazione tra Torrioli e Paganini con quest'ultima che si trova davanti a Casini, ma la conclusione non trova lo specchio della porta. Nella ripresa si sveglia la Vigor che domina il gioco per i primi 15 minuti di gara e non consente la costruzione della manovra all'Arezzo. Vigor vicino alla rete al sedicesimo quando dagli sviluppi di una punizione calciata da Cosi, Manetti sfiora di testa il pallone sola davanti ad Antonelli. Girandola di cambi per mister Acquisti che inserisce Pesci, Carleschi e Lancia, cambi che trasformano l'Arezzo che inizia a macinare giochi e occasioni. Minuto 30, Zeghini vince due contrasti con Grinta e si porta davanti al portiere ospite che sulla conclusione della numero 6 dell'Arezzo compie un attentico miracolo. Sulla respinta ci prova di tacco sempre Zeghini, ma è bravissima Cosi a salvare sulla linea. L'ultima grande occasione per la ragazza Amaranto arriva al 36esimo con Terini, bravissima a saltare tre avversarie con una serpentina, ma il difensore Amaranto si fa ipnotizzare da Casini che riesce a respingere nuovamente. Nel finale di partita un'espulsione per parte, prima Baracchi per proteste, poi Manetti per doppio giallo. Arezzo poco cinico sotto porta e che ha giocato per la maggior parte del tempo con il bari centro-basso, gioco che ha favorito la Vigor Rignano, autrice di una buona prova difensiva. Continua comunque l'imbattibilità delle ragazze Amaranto a Lorentini con il pareggio che porta l'Arezzo a quota 28 in classifica. Siamo qui con Mr. Acquisti. Mr. quest'oggi l'Arezzo 1-0-0 è comunque un buon punto contro una squadra che ha giocato molto bene qui a Arezzo. Cosa però non ha funzionato per quanto riguarda le ragazze allenate? Io credo che possiamo parlare anche, le occasioni credo che si siano create, magari ci è mancato quel pizzico in più, che qualche volta viene dato dalla fortuna, come ci ha aiutato magari in passato, anche se forse ce lo meritavamo anche meno di oggi, perché credo che le ragazze, qualche assenza, qualche condizione precaria, però le ragazze hanno dato, secondo me, tutto quello che avevano e io sono soddisfatto. Purtroppo non per il risultato oggi, però per il resto sicuramente sì. Ecco, un Arezzo ricordiamolo che mette in settimana in campo dei ragazzi molto giovani rispetto a questo, quindi una linea verde con un progetto a lungo termine anche per la squadra. Sì, ecco, da cosa deriva anche la mia positività. Noi siamo giovanissimi, anche oggi in panchina c'avevo 3-2 mila, due sono entrate in campo, una giocava titolare, l'assenza del capitano sicuramente è importante, anche il nostro bomber, l'altra Paganini che ha giocato in condizioni precarie subito dall'inizio, si è sacrificata, ci ha provato, però non ce lo faceva più. Per noi sicuramente sono pezzi importanti, però anche le ragazzine che entrano si danno da fare e questo per il futuro è sicuramente positivo un'altra volta. Siamo qui con l'altore Davigo Rignano. Mister, quest'oggi uno 0-0, un punto strappato qui a Rezzo, un punto buono, quali sono poi gli obiettivi generali comunque della classifica per Vigor Rignano? Beh sì, indubbiamente è un campo per noi quasi proibitivo, quindi fare 0-0 è stato un grande risultato. Siamo una squadra molto giovane, quindi penso che oggi l'11 titolare aveva un'età media che non arriva a 20 anni, quindi per noi è importante riuscire a costruire qualcosa di buono, qualcosa di interessante nel corso degli anni. Abbiamo fatto una politica un po' particolare, ogni domenica portiamo in campo quantomeno 2-3 juniors di 15, 16, 17 anni. Stiamo mettendo un progetto a lunga scadenza, un progetto che però è interessante. Ci sono tante ragazze interessanti, molto giovani. Per quanto riguarda la nostra classifica stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Innanzitutto siamo stati ripescati a settembre in Serie C pensando invece di dover fare una D, quindi avevamo l'idea e fatto una squadra per fare un diverso tipo di campionato. Quindi ci stiamo comportando bene, abbiamo 14 punti in 14 partite, l'importante è rimanere distanti da quell'ultima posizione che comporta la retrocessione e poter così lavorare tranquillamente durante la settimana e venire a giocare le partite in maniera tranquilla. Oggi è stato 1-0-0 veramente importante perché l'Arezzo è sicuramente una delle squadre più interessanti di questo campionato e l'abbiamo visto, insomma ci hanno messo in grossissima difficoltà. Siamo state brave ma anche fortunate. Siamo qui con Laura Tiesci, quest'oggi capitano di Arezzo. Laura, dopo 1-0-0 l'Arezzo non è riuscita a segnare dopo tante partite a cui andava a segno. Cosa non ha funzionato quest'oggi per portare a casa i tre punti? Nel primo tempo siamo partite un po' sotto tono, magari non ci siamo resi conto della forza dell'avversario e nel secondo tempo siamo entrate più decise, abbiamo provato in tutti i modi e un po' la sfortuna, soprattutto la sfortuna, non ci siamo riusciti a fare i gol. È andata così, purtroppo oggi erano tre punti da portare a casa, però è andata così.